Ciao carissimi e bentornati sul mio canale! Io sono Bea, la vostra insegnante di italiano e in questo video parleremo riguardo la concordanza in una frase italiana. L'italiano, che è questa bellissima lingua che noi studiamo, che noi conosciamo e che noi amiamo, è ricca, è piena, è vasta di regole, di eccezioni e di piccoli puntini che sono sempre importanti da fare tanta attenzione. Quindi quando si forma una frase in italiano, in maniera verbale, ma soprattutto in maniera scritta, bisogna fare molta attenzione soprattutto alla concordanza dei nomi. Ma che cosa significa Bea, la concordanza di una frase? Semplicemente significa il avere senso una parola insieme all'altra, un verbo insieme a un complemento, ad un nome, ad un aggettivo e così via. Quindi, in poche parole, una frase in italiano viene composta da un nome, cioè un sostantivo, ad esempio un pronome di persona, può essere un nome, un oggetto, una persona, una cosa, un locale, può essere un nome e questo nome in generale viene accompagnato da un articolo, da quella piccola parola che accompagna ad esempio la parola la bambina. Il ragazzo, quindi questo il sarà l'articolo che accompagna il nome, giusto? Subito dopo il nome, in generale, abbiamo un verbo che è finalmente l'azione di questo nome, cioè è come viene fatta, come viene realizzata la cosa della frase. Essere, avere, amare, divertirsi, studiare, viaggiare, sono tutti verbi che possono usare, che possiamo usare dentro di una frase in italiano, giusto? E subito dopo abbiamo il complemento, cioè quello che viene subito dopo in maniera di complementare, che viene a complementare l'idea del verbo. Ad esempio, io mangio tanti spaghetti, quindi che cosa mangio? Mangio gli spaghetti, cioè io sono il nome, mangio è l'azione e gli spaghetti saranno il complemento, giusto? Ovviamente posso anche aumentare questa frase e renderla ancora più ricca, quindi io mangio gli spaghetti della nonna che erano buonissimi o che sono buonissimi, quindi posso anche portare degli aggettivi o degli avverbi e tante altre parole che arricchiscono, che rendono la frase più bella e più piena di elementi. Quindi ti chiedo un minuto, cioè un secondo, un attimo, di guardare questa breve e semplice frase in italiano. Se vuoi pausare il video per analizzarla, esaminarla in maniera più tranquilla, tranquillo, tieni il tuo tempo, ok? Ma cosa dice la frase? Dice, la ragazza svedese è simpatica e intelligente. È una frase abbastanza semplice, giusto? Ragazza è un nome, svedese è un aggettivo, è una qualità di questa ragazza. Una persona svedese è una persona che è nata in Svezia, un paese in Europa, giusto? È simpatica e intelligente, cioè è il verbo, essere è l'azione della frase. Simpatica e intelligente vengono subito dopo. Allora, questa frase è molto interessante perché così in questo caso possiamo analizzare veramente la concordanza della frase, perché noi sappiamo che quasi tutte le parole in italiano termineranno, finiranno in vocale. Se analizzi bene questa frase tutte le parole finiscono in vocale, giusto? Quindi bisogna fare molta attenzione a sapere che cosa è singolare, che cosa è plurale, che cosa è femminile e che cosa è maschile. In questo caso il soggetto, il nome è un soggetto singolare femminile, quindi tutto quello che avviene subito dopo, verbo, complemento, aggettivo e tutte le altre cose devono venire, devono essere d'accordo con questo nome, giusto? Quindi anche se ragazza è un nome singolare femminile, finisce con la A, come vedete, svedese è un aggettivo che anche se femminile finirà con la E al singolare. Attenzione a questo. Simpatica invece finisce con la A, esattamente come ragazza. Intelligente però, no, finirà con la E uguale a svedese, quindi bisogna fare molta attenzione alle terminazioni delle parole in italiano. Perché? Perché l'esercizio adesso sarà, prima, scrivere questa frase su di un foglio, sul tuo quaderno, un pezzo di carta, bisogna sempre essere fatto a mano, scritto a mano, non digitate, mi raccomando, ok? Quindi scrivete questo sul vostro quaderno, pausate il video e passate questa frase al plurale. Questo sarà il nostro esercizio. Appena avrete finito di fare l'esercizio, tornate, continuate il video per vedere qual è la risposta, giusto? Quindi andando avanti, il plurale di questa frase è, le ragazze svedesi sono simpatiche e intelligenti, giusto? Ma allora, non so quello che hai sbagliato, ma posso immaginare che probabilmente svedesi e intelligenti sono stati dei piccoli punti ad essere corretti, giusto? Se no, complimenti, bravissimo, bravissima, continua esattamente così, hai fatto molto bene, attenzione ai punti critici della concordanza in italiano, fantastico, bene. Se invece no, ti devo sempre dire di fare attenzione a quello che ho detto all'inizio del video, se la parola è femminile, se la parola è maschile, è plurale ed è singolare, quindi anche se la parola svedese al singolare finiva con la e, questo non significa che era già il plurale, era ancora il singolare ed è per questo motivo che il plurale di svedese sarà svedesi ed è per lo stesso motivo che il plurale di intelligente sarà intelligenti, anche se è una parola associata a un nome maschile o femminile, quindi fate sempre molta attenzione alle terminazioni e alle adattazioni che a volte ogni tanto bisogna fare, ad esempio simpatiche. Ti ricordi che al singolare la parola era simpatica senza la lettera H, giusto? In questo caso per associare, per avere il suono duro di che, che è il suono originale, che viene da K, bisogna sempre inserire la lettera H, va bene? E ovviamente questo penso che non devo nemmeno dire niente, il verbo, che bisogna ovviamente passarlo al plurale, il plurale di E sarà il verbo sono, giusto? Quindi ragazzi, il tema, la tematica concordanza, reggenza verbale è molto più vasta di quello che vi ho presentato oggi, però se avete avuto qualche dubbio riguardo questo tema, volete chiarificare o migliorare o soluzionare qualche cosa, fatemi un commento qui sotto che sarò contentissima di rispondervi e se volete sapere di più riguardo anche le reggenzie verbali e così via, fatemelo sapere che sarò contentissima. Ricordati anche di condividere questo video con chi studia l'italiano come te e ovviamente di darmi un mi piace, un pollice in su, va bene? Ciao!